Torricelli Dino Baggio Torricelli ancora, pressing con Lentini Buon lavoro il disimpegno di Torricelli Palla poi a Marocchi Dino Baggio Avanza Torricelli, va a chiudere Beresi Sì di lui, parte il traversone Bello il tiro, gol! E Juve in vantaggio Grande combinazione ancora della Juve Scoperto il Milan sulla fascia sinistra E Müller porta in vantaggio la Juve Ventesimo, Müller Tutto molto bello, vedete la coordinazione stupenda di Andy Müller Che trova il tempo della battuta sul cross Non era facile, avete visto, per coordinarsi Ha dovuto fare una specie di arresto Saltando sul posto con un piede Il suo tiro poi risulta imprendibile per Rossi E la Juve sta vincendo 2 a 1 a San Siro